La candidatura di Vendola per le primarie non rischia di essere un boomerang, di indebolire un po' Bersani e di favorire Renzi? Io non credo che la candidatura di Vendola indebolisca Bersani, è un'opzione diversa, rappresenta un pezzo del mondo del centro-sinistra, è un mondo che deve stare in campo perché tutto il centro-sinistra è necessario per poter vincere. Mi pare che ragionevolmente questo indichi ancora di più l'esigenza di una sintesi, che Bersani può essere in modo assolutamente efficace e con successo.